Sarà sicuramente capitato anche a voi. Siamo di fretta? Abbiamo bisogno di un capo di abbigliamento ma lo troviamo in condizioni non proprio perfette? Roventa ci risolve il problema con Master Precision 360, la stiratrice verticale che rimette a nuovo i nostri vestiti in tempo brevissimo. Vediamo le sue caratteristiche principali. Comodo e pratico, efficienza e precisione, adatto a tutti i tipi di tessuto, rinfresca e igienizza. Roventa Master Precision 360 è comodo e pratico grazie all'efficienza del vapore consente di eliminare pieghe e di rimuovere gli odori con rapidità ed efficienza. L'utilizzo è semplicissimo per accenderlo basta premere il pedale on off ed in soli 45 secondi è pronto per l'uso. L'ideale se si deve uscire di fretta e si ha la necessità di rinfrescare velocemente un abito senza dover tirare fuori l'asse da stiro. Estremamente versatile grazie all'appendiabiti rotante e multiposizione regolabile in altezza con cui si può stirare a vapore facilmente anche la parte posteriore dei nostri capi. Roventa Master Precision 360 è efficiente e preciso, può eliminare le pieghe e vaporizzare anche i punti più difficili da raggiungere perché oltre a un'erogazione diffusa può utilizzare il getto di precisione che concentra il vapore attraverso la punta della testina. Inoltre è adatto a tutti i tipi di tessuto senza alcun rischio di rovinarli. Il serbatoio da 2,5 litri comodo da riempire consente di avere fino a 80 minuti di stiratura a vapore. Tre sono gli accessori in dotazione pensati per curare al meglio i propri indumenti. la spazzola di stoffa, il panno protettivo e l'accessorio piega per i pantaloni. Possiamo utilizzare Master Precision 360 dove ci è più comodo. Come vediamo possiamo spostarlo comodamente per la casa grazie alle due ampie ruote di cui è dotato e riporlo via occupando poco spazio. Da oggi dunque capi sempre freschi, igienizzati, in ordine anche all'ultimo momento con Roventa Master Precision 360.